Mi aspettavo una partita diversa da parte nostra, perché che Pesaro potesse giocare in una giornata in cui c'era molta attesa, c'era molto entusiasmo per l'arrivo in casa, per l'esordio in casa del figlio di Darrendei, sembra che proprio la cornice di pubblico ha dimostrato quanto c'era questa attesa e poi dopo è bastato che la squadra girasse nel modo giusto perché il pubblico oltre ad essere presente si scaldasse anche. Noi invece abbiamo giocato una partita molto diversa da quello che possiamo fare, che avremmo dovuto fare per giocare contro una Scavolini di questo tipo, abbiamo concesso alla Scavolini di giocare effettivamente troppo facile.